Ciao a tutti da Diego di Tecnofan.it quest'oggi vediamo la video recensione del mobile Lite Wireless G2 un dispositivo che ho già recensito la prima generazione diciamo esattamente un anno fa e che quest'anno è arrivata la seconda generazione con diverse migliorie ma voi vi chiederete che cos'è adesso ve lo spiego andiamo ad aprire la confezione per vedere cosa abbiamo al suo interno abbiamo il dispositivo mobile Lite Wireless G2 un manualetto rapido il cavetto USB micro USB per la ricarica perché ha una batteria interna da 4250 mAh e infine questa scheda micro SD che non è altro che un adattatore per leggere le micro SD mettiamo via tutto il resto e veniamo a lui che cos'è praticamente è un lettore di schede micro SD accessori USB che possono essere chiavette, pendrive e cosa fa questo aggeggio? crea una rete wifi che tramite l'applicazione che verrà installata sul dispositivo che può essere un dispositivo Android o un dispositivo iOS darà la possibilità attraverso la rete wifi di scaricare, copiare, spostare i file che abbiamo nel telefono dentro un supporto che abbiamo collegato come ad esempio una chiavetta USB oppure una memoria questa è una funzione davvero molto comoda non tanto magari per i dispositivi Android perché hanno la possibilità magari alcuni di utilizzare i dispositivi USB on the go ma per i dispositivi iOS perché abbiamo la possibilità di copiare le foto che facciamo con il nostro dispositivo direttamente in una memoria inserita e per tutti gli utenti collegati perché supporta più utenti la possibilità di condividerle con loro in tempo reale quindi questa è una cosa davvero ottima che non è possibile fare altrimenti senza questo dispositivo o con i dispositivi iOS vediamo un pochino come è fatto abbiamo nella parte frontale tre piccoli led che ci indicano le diverse funzioni abbiamo il primo led che ci mostra l'accensione e lo stato della batteria il collegamento alla rete wifi e questo mondo è praticamente il bridge cosa vuol dire? vuol dire che quando noi utilizziamo l'applicazione si collega tramite il wifi del nostro telefono si collega al wireless mobile light G2 e questo però cosa succede? succede che se non siamo più collegati magari alla nostra rete wifi quindi non abbiamo più la connessione allora cosa dobbiamo fare? dobbiamo fare un ponte ovvero questo si deve collegare alla nostra rete wifi adesso magari vi può sembrare un'operazione difficile però è davvero semplicissimo quindi facendo il ponte ovvero collegando anche questo che poi si può fare tramite le impostazioni che dopo vi faccio vedere alla nostra rete wifi avremo internet di nuovo sul nostro dispositivo questa diciamo è la spiegazione abbiamo il tasto di accensione bisogna tenere premuto per 3 secondi per accenderlo e tenere premuto per 3 secondi per spegnerlo scusate se sentite questa voce un po' strana ma sono veramente malato porta micro usb per la ricarica questo qui è un pulsantino per il reset della parte opposta abbiamo l'entrata per il cavo ethernet perché? perché questo può diventare anche un router ovvero abbiamo una connessione soltanto via cavo ce lo schiocchiamo dentro e questo diventerà un router wifi che ci darà la possibilità di utilizzarlo con tutti gli altri dispositivi un'altra funzione molto interessante è la batteria da 4250 mAh che a cosa serve? serve oltre ad alimentare il dispositivo serve anche per ricaricare i nostri smartphone quindi davvero una funzione in più per questo dispositivo vediamo adesso come funziona lo accendiamo 2, 3, voilà e nel frattempo andiamo a prendere il nostro smartphone ed andiamo ad aprire l'applicazione eccola qua cosa dobbiamo fare adesso? adesso io ho degli aggiornamenti in corso dobbiamo aprire la connessione wifi del nostro dispositivo e collegarci al mobile lite G2 attendiamo che si avvii sta facendo la scansione ok la rete è disponibile adesso io vado a collegarmi connetti sta prendendo l'indirizzo IP voilà è collegato vado a riaprire la mia applicazione e vedete che io vedo mobile lite G2 con la memoria storage locale sarebbe la memoria interna del dispositivo andiamo ad aprire mobile lite G2 e questi sono i file che sono all'interno adesso io dentro ho una SD card con praticamente nessun tipo di file ma adesso vado a collegare una pendrive voilà facciamo indietro vediamo il tempo di collegarci di l'essere ed ecco fatto vedete USB 1 questi sono i file che abbiamo all'interno li possiamo direttamente leggere tranquillamente facciamo partire ad esempio un brano come vedete l'anteprima del brano è istantanea possiamo anche riprodurre le foto vediamo se questa è una foto ok possiamo scegliere di fare lo zoom più o meno possiamo anche scegliere poi di visualizzare dei filmati ma soprattutto possiamo scegliere di spostare e copiare i file come vedete possiamo copiarlo possiamo scegliere di condividere su Facebook, Twitter o allegarlo ad una mail chiaramente ci sono le cartelle possiamo entrare dentro le cartelle fare tutto quello che vogliamo con i dispositivi che abbiamo collegato questa è una funzione davvero molto comoda diciamo che ha una sua funzione ancora più comoda per i dispositivi iOS ve lo faccio vedere abbiamo qui un iPad alziamo un pochino lo zoom abbiamo anche 2000 riflessi vediamo se riusciamo a sistemarci bene ok andiamo ad aprire l'applicazione eccola qua scusate prima mi devo collegare alla rete Wi-Fi Mobile Lite G2 e andiamo ad aprire l'applicazione ci sono un pochino di riflessi ecco vedete ha riconosciuto l'unità USB possiamo scegliere di visualizzare tutto e ci viene mostrata la lista dei file in ordine diciamo cronologico oppure in ordine di nome anche in questo caso possiamo far partire un brano ma soprattutto possiamo scegliere di importare le foto dal nostro rullino fotografico andiamo nel menu che troviamo qua in alto sulla destra mettiamo copia da foto e vedete ci permette di entrare nel nostro rullino fotografico possiamo scegliere due foto facciamo fine e lui ci dice ok dove lo vuoi copiare lo voglio copiare nell'unità USB facciamo copia qui ed il trasferimento è avvenuto in una maniera davvero velocissima ecco le foto che abbiamo trasferito e che adesso sono dentro la chiavetta USB come avete visto la funzione è davvero molto semplice vi faccio vedere velocemente anche come impostare la rete bridge vedete queste sono le impostazioni che ci dice anche la durata della batteria ed altro il nome il firmware se scorriamo in basso abbiamo la connessione di rete la connessione di rete noi dovremo scegliere qua la nostra rete wifi di casa per configurare il nostro il nostro modem diciamo abbiamo anche la possibilità di utilizzarlo con le chiavette USB le chiavette wireless o meglio le chiavette USB con i modem mi veniva la parola configurazione USB dobbiamo inserirlo dentro mettere le impostazioni non tutti i modem funzionano sul sito di Kingston c'è scritto quali sono compatibili se volete magari utilizzarlo per questa funzione vi conviene darci un'occhiata questo era il mobile light wireless G2 che viene venduto ad un prezzo di 59,90 euro su Amazon lo trovate un pochino a meno e trovo che sia un accessorio davvero molto comodo anche perché come ho detto prima si può utilizzare tranquillamente anche per ricaricare i nostri dispositivi visto che ha una batteria interna da 2450 mAh per il momento è tutto ciao da Diego